Innanzitutto una sfida affascinante secondo me, perché il Teramo a parer mio non merita questa situazione di classifica, parlo di organico, di società, e quindi ho voglia di mettermi in gioco qua a Teramo. Così è stata, è stata molto veloce, avevo, ad essere sincero, altri tipi di trattative, pure non molto lontano da qui, però quando ieri è stato tutto, mi hanno chiamato per venire a Teramo, onestamente ho accettato subito, non lo so, forse perché il direttore mi ha trasmesso una voglia forte, mi ha voluto parecchio, io lo sentivo dalle sue parole, quindi subito, non ho avuto dubbio, pure è stata una cosa, una sensazione così. Il direttore bolla? Sì, ho sentito lui per telefono e ho accettato praticamente subito, in giornata. Ho giocato, parlo del più recente, adesso a Pagani, ho giocato a tre, a quattro, a tre ho giocato centrale dei tre, a quattro gioco centrodestra, così. Al Chelsea sono andato quando ero giovane, avevo fatto quattro anni di contratto, ero giovane, non capivo forse la fortuna che avevo e alle prime difficoltà ho preferito tornare in Italia perché ero secondo me troppo piccolo e immaturo per affrontare un'esperienza del genere. Avevo giocato in nazionale con Carraro perché avevamo tutte trafile, Branduani siamo stati insieme un anno a Salò e Ilari siamo stati insieme a Barletta e alla Juve l'Estrugioni.